Grazie a tutti. 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 So, la 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 e poi aggiungiamo il tempo per il sistema, che è una indicazione su quello concentrativo, ma poi aggiungiamo il tempo per il sistema. E poi aggiungiamo l'informazione che c'è una indicazione, cioè il sistema, che è un termine di damping, è sempre di dissipato. Non è in un attrazione, come il vento, è una struttura di damping. ci coincide con la struttura del vento e questo è il deposito quindi è sempre eccitativo noi sappiamo che il vento può generare un geometrico vento che può essere eccitato il tipo eccitativo può essere eccitato eccitato ma io conflitto con la struttura con la struttura poi può essere visto io potrei provare in generale ma vorrei raccontare un esempio per dare un esempio ma in generale non è evidente ma ho bisogno di qualcosa vediamo vediamo che vediamo che vediamo che vediamo che vediamo che vediamo che vediamo vediamo per esempio per esempio per esempio per esempio per esempio quando l'axial force è grande la struttura è diventata per esempio per esempio per esempio i per esempio per esempio Questo è il totale stifizia, per l'unica di un sistema. Quindi, ho scritto il problema di Igembal, per cui, λa quadro M, plus λa C, plus K, by U, zero. E' una cosa che ha porto di D. e poi ho solito l'equazione caratteristica, che è una equazione seconda gradata algeggetica. E ho discutito le regole. Non si è un'ottima, ma è un'ottima, ma è un'ottima. Quindi, la caratteristica è lambda quadro m plus lambda c plus i uguali zero. e poi lambda è male si lato male si b4 b4 meno 4 decili 5 4 ok si è corretto Quindi, in questo caso, ci sono due ordini, per un degree di volume abbiamo due gigantesca, il capitale è doppio. Quindi, se K è positivo, il sistema conservatorio è stabile. Quindi, vedete, abbiamo già studiato. Ovviamente, se potete vedere c è zero, avete un'immaginabile ruota, quindi è molto stabile. Cosa succede se ho aggiunto c? Beh, potete vedere che se F è positivo, questo numero, sotto la ruota, ha un modus che è meno di c. Quindi, se hai un modus che è meno di c, quindi ho un modus che è meno di c. Quindi, ho un modus che è meno di c, quindi ho un modus che è meno di c. Quindi, ho un modus che è meno di c. Questo è il modus che c è uguale a zero. Ok? E poi, se hai, per K è positivo, ok, hai un modus che è uguale a zero. Ok? Hai un modus che è uguale a zero. Perché se c è uguale a zero, la ruota non è uguale a zero. E quindi, hai questa situazione. Quando c è uguale a zero, la ruota non è uguale a zero. E quindi, hai questa situazione. La ruota non è uguale a zero. Se c è uguale a zero, la ruota non è uguale a zero. Perché se c'è uguale a zero, la ruota non è uguale a zero. Se c'è uguale a zero, la ruota non è uguale a zero. Ma, è importante, perché sono in un modus che ci sono in un modus. Quindi, concludiamo che il modus che cambia la stabilità marginale per la stabilità asentonica. Sono in un modus. Quindi, dei modus che dipendenci story, Ci comporta una stabilità per la stabilità. Si anticipava la stabilità. Quando il modus che ti dipendere di scioglionemi, la ruota è appointments così Studio e la ruota sviluppa. Quindi, almeno, laürü, nel modo 곡ona, abbastanza piuttura e, ιοuna strabilità. E luibli è sicura il modus che non è uguale a zero, I would be interested in adding them to an unstable system and to hope to make it stable. Io potrei essere interessato a cercare di rendere stable un sistema che implice in stable. Faccio la vostra parte? Vediamo. Se A è negativo, il sistema conservativo è nonostante. Quindi, quando C è zero, i valori di un sistema conservativo sono 1. Ma, quando c'è il sistema nervoso, i valori di un sistema nervoso. Ma, come ho detto prima, i valori di un sistema nervoso restano sul senso. Se A è negativo, questo è un numero positivo. Se A è negativo, questo è un numero positivo. Ok? Il radicando, il numero sotto la ruta, è più grande che il 1. E, perciò, il 1 è sul senso. Irrespective di C, il sistema nervoso è un'acqua di riscaldanza. Il sistema nervoso è un'acqua di riscaldanza. Non potete muovere i valori di un positivo. Allora. Ok? Il sistema nervoso è un'acqua di riscaldanza. Quindi, il sistema nervoso resta un'acqua di riscaldanza. Quindi, il sistema nervoso resta un'acqua di riscaldanza. Questo è nonostante. Se mettete questo pennello in un olio, un olio, molto viscato, non importa. Se il pennello si muove, il pennello si muove molto, ma si muove. Il sistema nervoso resta un sistema nervoso resta un sistema nervoso. Quindi, il punto di vista di stabilità è che il sistema nervoso resta un sistema nervoso resta un sistema nervoso. quello che haato fatto è tenere sul sistema nervoso. Il sistema nervoso resta un sistema nervoso. Un sistema nervoso resta un sistema nervoso. Io non ho bisogno di sviluppare un esempio e io vi voglio proprio posti in questo caso. Un esempio da farvi un'acqua di risultato. È molto, 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 po' Damping può avere due effetti. Damping può essere benissimo che rende stabile e non stabile posizioni di o o malefico significa un stabile un stabile opposizione. Quindi Damping ha un effetto che è impredicabile non è predisibile dipende dai calzio. questo aspetto ha stato chiamato di stabilizzazione e è attribuito a di ziggler paradox in cui ha un maledio maledio infatti è un paradox che ha attenzione di molti ricercatori esistono 1000 persone e anche anche io e Anibali scrittano alcuni paper con il nostro punto di vista di stabilizzazione paradox che pensano che la giustificazione è la migliore migliore il migliore e anche questo problema quando hai un sistema che non puoi dire qualcosa perché hai due studiare il tuo problema in questo ok ci sono che sono un punto che sta un punto che succede a bifurcation che abbiamo parlato di stabilità che stabilità consente una specificità di bifurcation consente una serie di sistemi e stiamo studiando e stiamo cercando di qualità di diverse diametri è molto semplice di quale d 15 20 minuti di stiamo una famiglia di una non un grande ma una famiglia che si 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 vediamo t quale e un interno forze to quale un externo di un lo parametro che cambia l'ambiente la forza. Per esempio, tutto mu decide la intensità della forza. Questa è una classa di sistemi. Più più generale potrebbero avere mu dentro del parenthese, anche qui. Ci sono molte classi. Ma noi consideriamo solo forza, external forza, che sono molto proporzionali. Questa è una paragonia. Per esempio, flutte, due al vento, mu è il vento, che è l'amplice del vento, che investe la struttura. Ok. Quindi, possiamo trovare, non solo un equilibrio, ma un equilibrio. Un equilibrio. Per ogni minuto, abbiamo diversi equilibri. Possiamo trovare una situazione come questa. Per ogni minuto, abbiamo un equilibrio. Hangone qua. Ora, non какая cosa, in equilibrio. Un equilibrio. Un equilibrio. Un equilibrio. Avuto un po' più difficile a studiare. e non parlerò di loro ora, magari se siete interessati. Io mi concentrerò solo su 3 gradi, ma la cosa è che Q uguale a 0 è nulla di Q. Per esempio, per esempio, il reverse NU, per qualsiasi U, hai il Q uguale a 0, quindi hai una parte di 3 gradi, o nero di B. L'equilibrium persiste. Questo funziona quando f è uguale a 0 e interna e externa sono uguale a 0. Se le forze vanissano a Q uguale a 0 e a velocità uguale a 0, se la forza di Lagrangian, la forza di Lagrangian, la forza di Lagrangian, si vannissano quando la forza di B, quando la forza di B, quando la forza di B è in vertical. Poi, per qualsiasi U, hai Q uguale a 0 e hai una situazione come questa. Ora vogliamo studiare la bifurcation tra queste parti. Che significa? Significa che stiamo examinando le dinamiche tra queste parti. e guardando una valutazione criticale del mondo, in cui c'è un cambiamento di dinamiche. per esempio, apre in equilibria, nascono a parte in equilibria o cingli vestibili o del previous di existente normale. poi c'è un cambio, guarda il problema di dinamica quello che deve essere chiaro è che non stiamo esaminando un punto stiamo esaminando tutti i punti del percorso We examine all points of the path This is the difference with respect, sapevi non è una specie, ma tutti i punti di questa parte, di questa parte, di questa parte che è un po' più difficile Ok? Come analizzare? Very quickly I linearizzare la motion I linearizzare la motion around the generic form the generic point q equals zero mu different from zero All of these points are of equilibrium I take one more all of these points of mu generic and I linearize the motion for that value of mu and you understand? The equilibrium is q equals zero since the idea is supposed to be simple situation But I put here for a minimum mu and I ask myself How is the dynamics around this point? I change mu how is the dynamics around this point? and so I travel along the path so beauty is the ability ok? e noi andiamo sull'area la dynamic intorno al punto uguale zero ma un punto perché vogliamo esaminare in colpo solo tutti i punti che stanno su quella luna so I linearize and I write Do you remember? mass q dot plus c c c is made of a structural part and a geometric part but now the geometric part which comes from the external process is affected by mu that that's the difference with respect to the previous piece mu affecting external force abbiamo un fattore mu che affetta e moltiplica le forse esterne e quindi tutto quello che viene dall'esterno si porta presso un fattore mu fan è uguale al k la stabilità è la stabilità k strutturale plus mu k geometrico mu geometrico uguale zero quindi abbiamo una metrica totale metrica che è funzione mu in questo caso c è lineare mu che non 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 si ma è il totale attraverso mu ok ok now i can for any value mu to find the 18 values to very good i choose several points here and whenever i solve i want to 0 to 1 solve the problem then mu 0 2 solve the problem problem and so I explode all the points of the equilibrium by booking for a new then I can plot an area which is the root locus il luogo delle radici sottointeso del polinomio caratteristico root locus o caratteristico il luogo geometrico e sì siamo un sistema a 2 gradi degrino di gradi in 2 gradi 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 4 gradi gradi e gradi mu it means that the system when forces at zero external forces at zero is stable since it's only elastic and down then I change the value mu since the value the value from this problem depends on mu sorry I didn't write it is better to write lambda square n plus lambda c depending mu by u equal to mu I understood ok so it is a problem in which the matrix changes quickly it is obvious since they have stiffness and damping for different values of blue for each value of you find bigger and you can plot the locus here you have different points and so you put one bullet ball you can see on the plane you can see they evolution simply by numerically studying the roots of the characteristic equation in which mu appears inside the matrices in this case we assume proportional the elements so what could happen for a second mu that some of these values cross the imaginary axis then the equilibrium point loses stability so for increasing mu we could have two different solutions for example this one crosses while the other one are still controlled or it could happen that the first to cross the imaginary axis are the complex ege values you don't know you have to check by increasing mu ege values change and you can reach a critical condition at mu equal mu c for a special value for the first time cross the imaginary axis and then your agreement point u equal to zero loses stability and therefore a bifurcation occurs since the dynamics changes here dynamics is stable it means that trajectories move around the origin but in that situation the dynamics change change the natural stability this kind of stability is called static bifurcation or divergence this type of bifurcation is called dynamic bifurcation or flatter in the technical engineering world or off bifurcation in the mathematical world in the physics and bifurcation dinamica or statica it can be proved it can be proved that at static fabrication another path crosses the trivial time this is trivial part number one at critical point mu equal mu c another path it can be proved by using the implicit function theory analysis oh my god anyway it can be proved constructively constructivamente you have done by your examples like this you have seen that when now you can look at the exercise with other ideas stiffness the stiffness stiffness is zero another part bifurcines so stiffness so when the stiffness matrices become semi deaf or semi deaf semi clear then a new part arises so at the starting bifurcation some new parts but bifurcate branches from the fundamental part this is all the exercises we have studied three types structures otherwise for dynamics bifurcation like this it occurs that at a critical value of ordin arises at u equal u c a dynamic solution arises this is the case of galloping flutter of bifurcation if a cross the imaginary axis the equilibrium position is lost a person in system a new agreement arises a dynamic motion arises the first one occurs for static perfection and it can be proved by the or periodic orbital arises and this is the whole theorem has been good much later at the end of last century but there physically it is quite obvious here the stiffness loses its definiteness la sua definitenza viene persa il sistema diventa labile e quindi in quest'altra situazione c'è un moto armonico che incidentemente sta per diventare l'ampiezza crescente che ha l'immaginario part che è una parte che sta per diventare così diventare diventare il moto di reggio e eventualmente possibilmente possono stabilizzarsi sul punto cinque che sono le due magnetiche che conserzati sistemi possono anche imparare esperienze in attraverare le attraverare le le che un attraverare un che vengono che valori sono sono l'immaginario l'immaginario è l'immaginario che è l'immaginario e si si ricordate che le conservazioni sono l'immaginario che l'immaginario l'immaginario che si 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 come si ci si sei l'immaginario che cross gli tri Questo è un sistema di bifurcation per un sistema di circulatore. Per un sistema di bifurcation di conservazione si avvicini alla prossima. se si muove contattivo, si colapsano e si muove con le quadruplette, si muove questo è il mecanismo del processo In questo caso il meccanismo è il seguente. In questo caso il meccanismo può essere provato, ma l'ultimo è quello che si tratta. In questo caso il meccanismo si tratta. Quando hai il meccanismo, si tratta. la collisione non è qui ma qui, ma qui. Ma in quanto riguarda il progetto, hai un processo di evangibile. Statico è statico. In questo caso, hai un colapso sull'imagine. Quando sei da l'ambiente, il colapso è evitato, hai due veicoli che, in ultimo minuto, sono diventati. Si chiamano il colapso. Il colapso. La virata della nata. Il colapso. Non si chiamano, ma si cambiano solo un processo. Quando sei da l'ambiente. È un processo di supportare. Non ci sono tanti. Ascolti costruzzi anche. Inizibano la parte della scuola. In questo video, vedremo la seconda parte del corso. In questo video, la ricetta è la Zoo del Cattaro. Non ci sono state fondamentale. Non ci sono tutta la scuola. Capiamo il corso. Grazie a tutti.